Perché uno che nasce musulmano, musulmano non può diventare, qua abbiamo un esempio, cristiano senza essere attaccato dalla comunità, una donna comunque musulmana non può sposare un cristiano a differenza di un uomo che può sposare comunque una cristiana. Poi c'è tutto un problema sulle moschee, io sento la libertà di culto, ok, noi abbiamo un Islam che non vuole assolutamente trovare un accordo con lo Stato italiano, abbiamo un Islam che non riconosce la carta dei diritti dell'uomo che noi riconosciamo, ma una carta dei diritti dell'uomo basata sulla Sharia, perché il Corano è uno dei testi della Sharia, cioè ci sono cose che vanno comunque chiarite, dette, dette onestamente, non solo fuori dai microfoni ma anche quando parlano, sapendo che tutti li ascoltiamo. Signora Katia, posso?